La Juventus, quando si è fatto il calendario non lo si sapeva, però le persone sono venute lo stesso, segno che forse lo sport per l'onda lunga dell'Olimpiade è un tema che appassiona le persone più di molti altri. Siamo qui per discutere il tema che noi alla stampa abbiamo seguito con particolare attenzione, quello di Torino candidata a capitale europea dello sport, lo abbiamo fatto perché crediamo che lo sport abbia una valenza che vada al di là dei risultati agonistici, possa servire per promuovere la città nel resto d'Europa e anche per far crescere la cultura sportiva in città che spesso è un po' carente quando si leggono ad esempio episodi come la Maxi Rissa dell'altra sera fra tifosi ai Murazzi dove sono incontrati gruppi di tre squadre diverse e hanno pensato bene di picchiarsi per un paio d'ore con un paio di arresti. Ne discutiamo con Stefano Gallo, l'assessore allo sport che è alla mia sinistra, con Mauro Berruto, l'allenatore della squadra nazionale di volley, quella che ha vinto il bronzo all'Olimpiade, quella che tutti abbiamo visto non più tardi di un mese fa in televisione. Gli altri ospiti sono Patrizia Alfano, presidente provinciale della UISP di Torino, Giuseppe Antonucci, consigliere del Comitato Italiano Paralimpico della provincia di Torino, poi alla mia destra Donaldo Rabino, responsabile del progetto a scuola di sport, e Chiafredo Gallo, consigliere della federazione del calcio regionale. Comincerei con l'assessore chiedendogli una riflessione su questa candidatura, anche perché ci spiegasse, noi abbiamo seguito questo evento con interesse ma abbiamo anche detto che c'è un rischio alle spalle di questa vicenda. La prima è di perdere la sfida con l'altra città candidata che è Cracovia e quando si perde è sempre un segnale negativo per la città, non piacevole per nessuno. La seconda è che poi vinta eventualmente la candidatura bisogna fare qualcosa per meritarsi il titolo di capitale europea dello sport per il 2015. Torino è una città che ha fatto molto per lo sport, ha due squadre di calcio in Serie A, però è anche una città che negli ultimi anni ha perso parecchio. Io ricordo quando ero ragazzino non c'erano soltanto il Torre e la Juve, c'era una squadra di pallavolo che vinceva gli scudetti e le coppe dei campioni, c'era una squadra di basket in Serie A, c'era un movimento, una squadra di atletica fortissima che vinceva anche lei, legai le coppe europee, c'era un movimento diffuso che aiutava noi ragazzini a scegliere lo sport, ci stimolava a fare la pratica sportiva. Ammettiamo che si vinca, che cosa succede dopo? Sì, intanto grazie e saluto tutti gli intervenuti, anche le persone che hanno voluto condividere questa riflessione, in particolare ovviamente il dottor Tiberga che con tutti gli impegni che ha ha accettato una riflessione, proprio perché è lo sport e so che gli sta molto a cuore. Ma capitale europea dello sport intanto non è un'Olimpiade. Questa è la prima domanda che mi ricordo Radio Vaticano mi ha fatto dopo che ha saputo che eravamo candidati. Ma vuole essere qualcos'altro, vuole essere un rilancio dello sport, non perché a Torino lo sport non è già sufficientemente a un alto livello, ma perché secondo me lo sport deve aggiungere alcune caratteristiche che adesso elencherò che probabilmente negli ultimi anni si sono perse. Soprattutto se nel dibattito pubblico si parla sempre di cultura, si parla sempre di altri settori, ma non si parla mai del fatto che lo sport, come diceva prima Guido Tiberga, in realtà è molto di più dell'atto agonistico che era chiuso nella competizione. E quindi probabilmente quando si parla di cultura bisogna iniziare a parlare di cultura dello sport, quando si parla di welfare bisogna iniziare a dire che i nostri ragazzini che vanno lì a giocare, in ogni quartiere della città, probabilmente se quello non è welfare, magari giocando e imparando a coesistere con persone di altre nazionalità, persone meno fortunate socialmente di quella persona che va a giocare e via dicendo, io penso che alcuni di questi valori, che poi sono quelli del libro bianco della Commissione Europea sullo sport, quindi l'etica sportiva, io continuo a sentire i genitori che vanno a vedere i figli a giocare e sembra che la competizione del figlio sia la finale della Coppa Intercontinentale di calcio. Probabilmente noi dobbiamo iniziare a educare i genitori, a partire da me con i miei figli, e iniziare a dire che se vince va bene, ma se non vince è stato bravo, perché ha iniziato a capire che il proprio benessere psicofisico passa da quella partita, da quella competizione, e soprattutto ha iniziato a capire che nella vita l'importante è rispettare le regole, e se si perde è stato bravo lo stesso. Quindi probabilmente ci sono alcuni temi proprio della cultura dello sport che oggi vale la pena riprendere. Poi soprattutto noi parliamo di atti agonistici, io quando ho chiesto a Mauro Berrutto di venire qua, poi per inciso lo dico in pubblico, ricordavi la famosa squadra del Custorino tanti anni fa, Mauro Berrutto era il mio allenatore e mi ha fatto un mazzo così quando mi allenavo nelle giovanili, quindi il fatto che lo ricordi con affetto, non perché abbiamo vinto tanto, ma perché quando uno faceva un percorso di scuola, o un percorso di lavoro, o un percorso e quindi lo stress indotto da quel percorso era alto, l'atto sportivo, anche se poi fatto non solo nei campionati agonistici, aiutava anche il percorso di vita della persona. E allora questi valori noi dobbiamo secondo me rilanciarli, perché quando si dice tuteliamo il welfare non si dice mai tuteliamo lo sport, e secondo me le due cose sono molto interconnesse. Poi un'altra cosa che noi dobbiamo fare è iniziare a farci conoscere, perché quando io sono arrivato a fare l'assessore allo sport, io sono un ingegnere informatico, ho fatto tanto sport nella mia vita, ma non sono mai stato un dirigente sportivo, tante bellissime realtà le ho conosciute facendo l'attività di amministratore, e tante le devo ancora conoscere. Quindi questo aspetto di far conoscere ciò che facciamo è un aspetto che non è sufficientemente sviluppato. Tanto è vero che quando gli sponsor devono aiutare a fare le manifestazioni, molto spesso si chiedono, ma questa attività ha veramente una valenza importante? Mi ricordo, per citarne uno, e me ne guardo dal fatto di privilegiarlo, ma lo cito come esempio, che quando abbiamo sostenuto Balloon Mondial, noto progetto dove lo sport è tutto tranne integrazione, quindi lo sport di base deve essere rilanciato, intendendolo come veicolo di quei valori di cui citavo prima, mi è arrivata una telefonata che io ho apprezzato molto, mi ha telefonato Al Jazeera dicendo possiamo andare a intervistare chi fa questo progetto, quindi non l'assessore allo sport, ma gli organizzatori che tra l'altro vedo qua in platea e possono testimoniare quello che sto dicendo se non è vero. È venuta un'altra televisione francese, sempre il terzo canale francese, e sono andati a intervistare questo progetto. Allora noi dobbiamo anche provare a fare un po' di marketing di noi stessi, sportivo, poiché facendo anche questa operazione probabilmente riusciamo a spostare l'asse dei budget dei direttori di marketing e di comunicazione e possiamo spiegargli che i progetti delle scuole o come avete letto stamattina anche le visite mediche dei bambini che sono molto importanti, noi dobbiamo tutelarle, però non è detto che in futuro non si possano fare in maniera diversa. E poi l'ultimo esempio per non andare troppo lungo, quando hanno saputo che eravamo candidati a Capitale Europea dello Sport, è verissimo, è un foglio di carta bianco, non è come un'Olimpiade che è un format precostituito, ma è questa la sfida che io lancio più che a me stesso, a tutti voi, a tutto il mondo sportivo. Perché siccome per tanto tempo ho sentito che ci piacerebbe contribuire a costruire qualcosa di nuovo nello sport, tutti quelli che hanno parlato con me, qua ce ne sono tanti, sanno che io gli ho dato porte aperte. Però adesso sta anche a noi e a voi come mondo sportivo far vedere che abbiamo voglia di fare qualcosa di nuovo. Allora il foglio bianco è il rischio, e io me lo sono preso e ringrazio il sindaco, perché poi queste cose si fanno solamente con un grande sindaco, e ringrazio quindi Piero Fassino, perché ha appoggiato questo percorso. Però guardate che solo il fatto di aver detto che siamo candidati porterà il 15 e il 16 settembre, lo ricordo a tutti, in piazza San Carlo l'NBA, ma non l'NBA con la partita dei campioni americani, uno street ball aperto a tutti i cittadini, quindi per promuovere lo sport di base, ovviamente quello è uno, non tra i tanti, in piazza San Carlo nel centro di Torino, dove ci saranno i campioni che potranno aiutare i bambini ad avviarsi verso uno sport. E chiudo dicendo che operazioni come il Museo dello Sport, che spero che aprirà il 7 novembre, sapremo se saremo noi o meno aggiudicatari della candidatura, io gli ho posto un solo vincolo, che aprano in concomitanza per poter far vedere che ancora prima di essere, speriamo, noi gli aggiudicatari, facciamo un progetto unico in Italia, a costo zero, dove il Comune ci guadagna, aperto a tutto lo sport di base, allo sport agonistico, dove mi dicono che alla conferenza stampa sono tutti agitati e arriveranno da Milano, perché a Milano dicono ma com'è che è la prima volta che Torino scippa qualcosa a Milano? E beh, forse questo noi dobbiamo ricordare che non è la prima volta, perché NBA era a Milano e anche quello arriverà a Torino, e allora forse conviene anche dire che lo sport a Torino lo sappiamo fare meglio di altri posti, dobbiamo farlo sapere, dobbiamo fare in modo di combattere. E allora chiudo dicendo che non siamo ancora a Capitale Europea, non sappiamo se lo saremo, ma io dico che abbiamo già vinto, perché se noi riusciamo a far capire che questo sport di base è lo sport agonistico, anche perché poi ognuno ha il suo ruolo, e il mio ruolo è di fare l'amministratore pubblico, e quindi io voglio che lo sport agonistico possa tramite un meccanismo di emulazione far sì di sorreggere l'avviamento di nuove persone verso lo sport di base, e poi chi sarà bravo farà anche la carriera agonistica. Quindi il mio obiettivo è di aumentare il numero di praticanti sportivi nella città di Torino nei prossimi anni. E io penso che questo ci possa aiutare, ci possa aiutare anche per attirare qualche capitale privato, che questo non fa male, perché è un momento, e poi penso che lo riprenderemo, ma in un momento di spending review, che è questa grandissima parola anglosassone, che tutti usano, ma la verità è che è un momento in cui dobbiamo ripensare un modello, che è un modello che deve essere, non solo, come dicono in altri settori, ecosostenibile, ma qua deve essere sostenibile rispetto a quello che potrà essere la spesa del comune, e non solo, nel prossimi anni. Mi piace dire l'ultima cosa, guardate che queste cose non le fa l'assessore, ma le facciamo tutti insieme. Possiamo perdere solo ed esclusivamente in un solo modo, se ognuno pensa di andare avanti per conto suo, dicendo e avendo idee migliori di altre. Se noi invece, tutti insieme, coaguliamo queste idee, e facciamo sì di fare una massa critica attorno a questa grande sfida, beh, io penso che noi avremo delle buone opportunità di far vedere che lo sport a Torino non solo è vivo, ma ha voglia di far vedere che è anche meglio in altre città d'Italia. Grazie. Di spending review parleremo dopo, perché ho una domanda importante da fare all'assessore. Prima però vorrei parlare un attimo con Mauro Berruto. Mauro Berruto è laureato in filosofia, ha scritto un paio di romanzi, quindi è uno dei testimonial viventi di un tema che mi sta molto caro, quello che dice che si può fare sport ad alto livello senza essere necessariamente ignoranti che hanno lasciato la scuola, dei muscolari puri. Si può conciliare il cervello con il fisico, lo si può fare bene senza sacrificare né l'uno né l'altro. Si è parlato di cultura sportiva, si è detto che possiamo diventare la capitale europea dello sport non per organizzare nuove gare, non per fare una nuova Olimpiade, anche perché non ci sono i fondi per farlo, ma per diffondere l'importanza dello sport fra i cittadini, soprattutto fra i cittadini più giovani. Siamo maturi per questo però, perché si leggono spesso notizie strane di genitori che si picchiano a partite di ragazzini, di uno sviluppo del doping anche a livello poco più che amatoriale. Lei ha lavorato anche all'estero, ha avuto un'esperienza in Finlandia dove si dice almeno che lo sport è una sorta di religione, cioè l'Italia è matura per parlare veramente di cultura sportiva. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito prima di incominciare. Io non lo so se l'Italia è matura, probabilmente in questo momento no e questa è una ragione ancora più forte, ancora più importante per fare in modo che questa città, che è la mia città e quindi il mio piacere di essere qui naturalmente non è tanto quello di portare le emozioni olimpiche o dal punto di vista dello sport di alto livello che avete visto fino a qualche settimana fa sul televisore ma è proprio quello di pensare e di sperare che questa città, che è la mia città possa essere da questo punto di vista apripista nel nostro paese per innescare un circolo virtuoso in questo caso che possa riportare lo sport da un punto di vista proprio gerarchico e ricollocarlo all'interno delle cose importanti. Si parlava e si faceva riferimento della cultura sportiva io credo che come dire le parole sono importanti e ci sono due parole che fanno parte anche del nostro tessuto costituzionale delle quali noi dovremmo riappropriarci e queste due parole sono una la fatica e l'altra la disciplina credo che mai come in questo momento e parlo non di sport parlo in assoluto parlo del nostro paese queste due parole possono avere un peso ancora più importante bene di fatica e disciplina lo sport si nutre lo sport non solo insegna ma come dire dimostra nei fatti che senza queste due parole non può esistere un percorso sportivo che ti possa portare all'eccellenza se hai il talento se hai il fisico per farlo oppure semplicemente far diventare lo sport una parte importante integrante della tua vita c'è un'altra parola che si lega allo sport che è la parola integrazione pensate a quanti investimenti il nostro paese fa per realizzare questo obiettivo che non mediatori culturali che hanno studiato e hanno fatto dei master chissà dove ma qualunque allenatore di qualunque federazione di qualunque ente di promozione sportiva risolve in un luogo magico che si chiama spogliatoio i nostri spogliatoi spogliatoi dei ragazzi delle ragazze che fanno sport in questo paese oggi sono fatti di persone che sono allenate da semplicissimi ragazzi e ragazze che magari fanno anche altre professioni che hanno il problema di fare in modo che come dire un cittadino tunisino segni un gol e di fargli arrivare la palla per fare in modo che questo che questo ragazzo possa segnare però di questi due aspetti dello sport legato da un punto di vista culturale alle cose che abbiamo detto siamo non possiamo che essere sempre d'accordo io ho partecipato a tanti momenti come questo e sempre le conclusioni sono evidenti io credo che sia arrivato però il momento anche di sfruttare una terza associazione rispetto alla prola sport che è quella dell'investimento io credo che lo sport possa oggi essere un investimento sul futuro di questo paese ci dicano i demografi ed è un dato certo ed è anche un dato splendido che nel 2050 quindi fra qualche decina di anni non tanti il 45% della popolazione di questo paese sarà over 60 è ovvio che è uno stato che già oggi fa fatica in termini di welfare a sopportare un diritto costituzionale alla salute che è una cosa irrinunciabile ma che porta via naturalmente delle risorse enormi non può come dire chiudere gli occhi di fronte a delle evidenze scientifiche perché esistono degli studi scientifici ed esistono degli esempi virtuosi in paesi del nord Europa nei paesi anglosassoni che dimostrano che lo sport è un investimento in termini di welfare è un investimento in termini di qualità della vita noi abbiamo letto due giorni fa credo sul Corriere della Sera c'erano due pagine intere di un elenco di proposte di decreto per migliorare gli stili di vita non c'era una riga in queste due pagine che parlasse di sport praticato io non sono qua a parlare di sport agonistico lo sport agonistico è un effetto collaterale è un fatto geometrico quanto più la base di una piramide è ampia tanto più il vertice arriva in alto non ci sono dubbi sono qui a parlare di sport come il più potente il più forte degli strumenti che un paese ha per migliorare gli stili di vita dei suoi cittadini e quindi per diminuire una richiesta di salute che è evidente per le ragioni demografiche di cui parlavo prima che questo paese dovrà andare ad affrontare in futuro esistono delle evidenze scientifiche anche sul come dire sulla relazione sulla relazione diretta fra variazione delle aspettative di vita e stato di salute di un paese prodotto interno lordo è ovvio è un investimento sul capitale umano un paese sano un paese che ha uno stile di vita migliore produce di più quindi aumenta la propria ricchezza io spero che questa possa essere una chiave di lettura per cambiare l'approccio il punto di vista che oggi lo sport ha e la gerarchia che lo sport occupa all'interno del nostro paese della politica del nostro paese e di un posto che è decisivo per sviluppare tutte le cose che ho detto che è la scuola io nelle mie esperienze ho avuto la fortuna di girare un po' in Europa vi porto un esempio di un paese piccolo sono due milioni di abitanti confina col nostro paese la Slovenia la Slovenia è arrivata sesta ai giochi olimpici nel medagliere pro capite quindi nel totale delle medaglie naturalmente relazionate al numero della popolazione del paese sesta bene in Slovenia nella scuola primaria nella scuola elementare i ragazzi incominciano ogni giorno ogni lezione con un'ora di educazione fisica tutti i giorni e non è un'ora qualunque è la prima ora che se ci pensate è anche come dire molto intuitivamente il miglior modo per permettere a questi bambini di avere un risveglio neuromuscolare che poi gli fa andare anche meglio a scuola gli fa essere più attenti e gli fa migliorare anche il rendimento scolastico questo non succede dall'altra parte del mondo noi abbiamo Gorizia che confina con Nova Gorizza a Gorizia la scuola elementare nella scuola elementare lo sport si insegna si fa e ha una gerarchia di un certo peso di là a 500 metri di distanza ovviamente la cosa è profondamente diversa l'ultimo aspetto è quello dell'associazionismo sportivo il nostro paese ed è un esempio come dire virtuoso italiano perché è un fatto unico nel mondo ha un tessuto fatto di associazioni sportive di medio piccolo basso alto livello che sono un patrimonio inestimabile di questo paese in verità rappresenta se non il dato che ho ricercato non è sbagliato il 53% del volontariato in questo paese è fatto di volontari che lavorano nel mondo dello sport e delle associazioni delle federazioni e degli enti di promozione sportiva io sogno che questa che questa candidatura per fare in modo che la nostra città che la mia città possa essere apripista da questo punto di vista nel territorio nel nostro paese e possa utilizzare questo evento splendido che speriamo di vincere è chiaro che c'è il rischio di perdere però è una sfida sportiva se avessimo paura di perdere non incomincieremo neanche a giocare ma mi piacerebbe e sogno davvero Torino capace di insegnare capace di far partire da qui un percorso nuovo che ricolloca lo sport gerarchicamente nel posto che gli spetta che lo ricolloca anche fatemelo dire siamo in questo contesto sono felice di dirlo anche da un punto di vista politico chi si definisce progressista non può non può negare l'evidenza dell'importanza di ricollocare lo sport all'interno della gerarchia delle cose è un fatto politico certo diceva Gandhi che in democrazia ogni fatto di vita non può come dire tirarsi fuori dalla politica è una cosa bellissima è una cosa bellissima il valore politico di questo è una cosa splendida purtroppo oggi ci insegnano e leggiamo tanti esempi contrari di antipolitica ce n'è stato uno recente fatemelo citare proprio nei confronti dei giochi olimpici un esponente di questo nuovo modo di fare politica si è scagliato contro le emozioni dei giochi olimpici mi spaventa questa cosa mi fa anche un po' paura perché io l'ho interpretato un po' come un test di fedeltà ai propri discepoli e quando si chiede ai propri discepoli per dimostrare fedeltà di astenersi dalle emozioni mi preoccupa e mi spaventa preferisco pensare a un grande romanziere sudamericano che si chiamava Julio Cortazzar che diceva parlando della letteratura diceva che ai ricchi ai borghesi piace leggere di romanzi che parlano della povera gente perché loro non conoscono la realtà del popolo e attraverso i libri cercano di capirla invece e al contrario alla povera gente piace molto leggere di libri dove si parla di principi di castelli di re perché loro non possono vivere quella realtà e attraverso i libri le sognano bene io penso che lo sport sia anche un modo per sognare e siamo ancora freschi di sogni e di emozioni di una ventina di fantastici giorni a Londra e di emozioni forse ancora più forti che ci stanno dando adesso gli atleti che stanno gareggiando in questo momento alle Paralimpiadi io scelgo questo tipo di sport che è tutto quello che ho provato a raccontarvi ma che ripeto e non dobbiamo dimenticarcelo è un investimento sul futuro del nostro paese grazie abbiamo parlato di emozioni abbiamo parlato di salute fisica che sono due delle cose che lo sport regala a chi lo guarda e a chi lo fa nella speranza che le due cose coincidano sempre di più che ci sia sempre più gente che guarda lo sport dopo averlo fatto e non soltanto per ti fare a favore o contro qualcuno vorrei però aprire un altro fronte perché lo sport è anche un modo etico di approcciare la vita io credo che chiunque abbia fatto sport agonistico a qualsiasi livello ma tanto più il livello si alza tanto più diventa difficile competere quindi è più facile avere delle sconfitte chiunque abbia fatto dello sport ha imparato una cosa fondamentale nella vita che è quella che per avere successo bisogna lavorare molto ma che lavorare molto non è sufficiente per avere successo perché si può essere sfortunati ci si può far male si può incontrare qualcuno che magari bara o più spesso e più semplicemente si può incontrare qualcuno che è più bravo di te e quindi il fatto di accettare la sconfitta sui campi aiuta anche poi ad approcciare la vita in modo diverso quindi ad accettare che sul lavoro un altro venga promosso al posto tuo che qualcuno abbia dei riconoscimenti che magari in cuor tuo ti aspettavi di meritare tu aiuta ad accettare la sconfitta e a ricominciare da capo perché l'unico modo per reagire a una sconfitta dopo che si è lavorato molto e riprendere a lavorare molto magari lavorando di più o lavorando meglio quindi è una diciamo una questione anche etica di affrontare la vita e ho detto questo perché vorrei approfittare della presenza di Donaldo qui che è responsabile di questo progetto a scuola di sport dove chiaramente si parla di etica si parla di educazione vorrei invitarlo intanto a presentare a spiegarci che cos'è questo progetto di cui la stampa ha parlato ma che forse non tutti conoscono nei particolari e poi chiedere anche lui se secondo lui siamo pronti ad avere una candidatura come questa avere un titolo che ci impegna non soltanto a fare delle gare ma anche a impegnarci nello sport in maniera diversa buonasera a tutti grazie per questo invito io mi sono appuntato due idee perché mi dicono che invecchiando nelle omelie sono sempre più lungo e allora non voglio andare oltre e non rubare tempo agli amici che sono quassuno e prima però di entrare dentro questo sulla domanda in specifico volevo ripigliare un po' il discorso un po' a monte per spiegare il perché di questa scuola di sport io sto diciamo molto bene prima Mauro veramente guardando questo spettacolo di umanità e di calore che sono le Paralimpiade di Londra se pensiamo a due milioni e mezzo di biglietti venduti non si trova un biglietto e gli stadi sono sempre pieni ma nello stesso momento che tristezza dovere di nuovo vedere come alcuni fenomeni di cui siamo oggi purtroppo ancora testimoni si ripetono dal caso di Armstrong Svaz ma anche al doping di piccolo cabotaggio e aggiungerei con grande tristezza questo problema del calcio scommesso che così pone sempre forti domande su un vorticoso giro di affari che ruota attorno al calcio e non solo ma dentro questo discorso mi preoccupa molto di più il cattivo esempio che noi stiamo dando ai giovani perché parliamo di etica di morale di fair play e dimentichiamo che tutto questo va come ricaduta pesante sul mondo dei giovani ma attenzione che a livello di problematica giovanile ci sono dei fenomeni su cui dovremmo stare molto attenti intanto un crescente abbandono della pratica sportiva nel mondo dell'ettantistico noi vediamo che i nostri oratori si stanno svuotando che non si gioca più Mauro è uno cresciuto nell'oratorio Fredo è uno cresciuto nell'oratorio ma oggi purtroppo non è più così e noi ci illudiamo che i numeri crescano perché andiamo sempre più in basso a pescare i ragazzi e crediamo di avere i numeri che si completano non è affatto vero ricordo che alcuni fa proprio in Piemonte il settore giovanile aveva una perdita all'età di 15 anni di 5.000 ragazzi nell'ambito del calcio che lasciavano ed era definito come abbandono precoce l'attività calcistica ma l'altro aspetto che è ancora più preoccupante è che si illudono i ragazzi con prospettive di riuscita dalle scuole le varie scuole ai campi estivi agli stage eccetera mentre attenzione che i nostri campionati sono sempre più quelli al vertice pieni di stranieri provate a leggere la formazione delle squadre che giocano oggi che hanno giocato che giocheranno oggi di serie A vedete che il 50% di quelli in campo non quelli in panchina sono stranieri io non ho niente che sono stranieri però mi chiedo perché puoi fare certe politiche certe insistenze e di questo potrei raccontarvene tante perché vissuti sulla propria pelle sulla mia pelle quando poi i vivai sono abbandonati quando i vivai sono un ottimo parafulmine per altre situazioni che dobbiamo coprire allora è soltanto una questione tecnica che i nostri ragazzi non arrivano a certi vertici e siamo pieni di atleti stranieri su cui posso avere molti dubbi sulle capacità o ancora una volta è un meccanismo per far girare soldi in maniera strana io questo lo dico e non lo voglio lasciar passare perché diversamente i nostri incontri sono sempre sciacquate così ma che non tolgono lo sporco allora concedetemi una metafora abbiamo tutti in passato condannato e anche nel presente ancora di più e censurato scandalosi fenomeni che riguardano i ragazzi i bambini traffico di organi lavoro minorile pedofilia beh ci stiamo chiedendo che cosa sta succedendo in certe discipline sportive o attenzione non dico che sia tutti così ma forse di denunciare mai i problemi i problemi quando poi ci scoppia in tramane è troppo tardi allora traffico di organi io vedo che troppo spesso si fa mercato di muscoli si traffica su un fisico in evoluzione per favorire la carriera di qualche tecnico o le casse del presidente oppure vedo che il lavoro minorile i ragazzi non esprimono più le loro capacità naturali ma alle volte sono obbligati a tre quattro allenamenti in squadrette direi non dico d'oratorio perché non voglio fare un tot all'oratorio con una partita infrasettimanale e i ragazzi sono spremuti cioè diventa un lavoro e così li perdiamo perché perché i ragazzi più si va giù hanno un solo desiderio giocare giocare basta andiamo nel campo della pedofilia attenzione che non esiste soltanto quella fisica allora insinuare nella testa dei ragazzi una facile carriera il successo grossi guadagni nei ragazzi è una brutta cosa perché è altrettanto grave ammazzare un cuore una mente quanto paccioccare il corpo e questo nostro mondo dello sport rischia per queste ragioni un fallimento allora cosa fare ecco noi ci siamo mossi in questa dico noi perché alcuni sono qui in sala alcuni sono presenti anche in questa sede no noi abbiamo avuto l'idea di dire proviamo a ripartire ed è nata l'idea di questa scuola di sport che cos'è questa scuola di sport è nient'altro che un tentativo di cambiare mentalità di cambiare le coscienze di convertire questo cuore è un tentativo cioè di portare una nuova cultura di fare formazione perché oggi purtroppo nell'ambiente sportivo si fa formazione tecnica si curano gli istruttori si fanno i... va tutto bene ci sta tutto ma quando si parla dell'uomo quando si mette l'uomo veramente al centro quando la persona conta veramente più di tutto il resto perché io troppe volte sento dire anche nell'ambiente dilettantistico è quello è bravo perché ha il baricentro basso quello è bravo perché è veloce ma si guarda mai la testa si guarda mai cosa c'è in quella persona si guarda mai che stile di vita che razza di famiglia che situazione si porta dietro quel ragazzo allora ecco noi ci siamo messi così in punta di piedi e ci siamo inventati questa scuola di sport due sezioni autunnale e primaverile sei incontri per sezioni docenti e testimonial e così abbiamo iniziato cercando di fare cultura in punta di piedi senza pretese non abbiamo così l'idea di convertire niente e nessuno ma di fare una proposta diversa e devo dire che forse la gente aspettava questo perché pensavamo di avere 80 persone non di più e invece siamo trovati con 156 persone che hanno dato la loro adesione perché noi vedete ed è un discorso trasversale a tutti gli sport non si parla di calcio noi abbiamo avuto la presenza veramente di docenti di testimonial di grossissimo spessore e credo che abbiamo iniziato un discorso che è lungo e questo è come quando si parla di conversione è una cosa che dura sempre non sei mai arrivato dura tutta una vita perché qui sta il problema noi dobbiamo deciderci se vogliamo stare dalla parte di mammona termine biblico che vuol dire il successo i soldi la carriera la riuscita personale il lucro il guadagno o se vogliamo stare dalla parte dei giovani altrimenti continueremo a battere l'aria a chiacchierare fare incontri e rischio è anche questo ma non cambia niente noi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto andiamo a costruire qualcosa di diverso facciamo cultura diamo delle idee chiamiamo della gente di spessore io sono molto contento che sia Mauro qui non solo perché è un tifoso del Toro scatenato più di me ma perché veramente lui è cresciuto con questo spirito è cresciuto con questa voglia con questa volontà e l'abbiamo sentito anche esprimere adesso allora io ringrazio veramente un po' l'assessore del comune di Torino ringrazio l'assessorato della provincia perché hanno colto questo nostro messaggio e si sono affiancati a noi in questo cammino e mi auguro che anche altre istituzioni si affianchino a noi perché si parlava di spending review no? sono sempre meno i soldi giusto? e qualche volta sono distribuiti un po' a pioggia io credo che sarebbe ora di dare una giusta distribuzione anche ai soldi perché è vero che al primo posto io metto le persone che abbiano idee e che producano risorse troppe volte si parte dai soldi e si dice non abbiamo i soldi e si ferma tutto cerchiamo prima le persone possibilmente con le idee arriveranno anche i soldi però se le istituzioni magari si svegliano e certe iniziative che partono dal privato che partono dalla base sono accompagnate da loro presenza beh forse arriveranno anche i risultati è uscito in questi giorni un titolo o un libro di Luca Mercalli dal titolo prepariamoci a vivere in un mondo con meno risorse meno energia meno abbondanza e forse più felicità bene io faccio il mio questo concetto e dico così prepariamoci a un tipo di sport con meno soldi ma anche meno cattedrali nel deserto forse i nostri figli i nostri ragazzi ritorneranno a giocare e a divertirsi ieri è mancato il cardinal Martini lui diceva fatevi domande inquietanti non importa se credenti o non credenti e poi importa se siete pensanti o non pensanti io volevo soltanto provocarvi a questo grazie dell'attenzione grazie beh Donaldo ha anticipato una domanda che volevo fare io sostanzialmente siamo in epoca di spending review si è parlato tanto nei giorni scorsi dei tagli alla cultura ci saranno meno soldi per i teatri per le associazioni culturali non si è ancora parlato di che cosa succederà al mondo dello sport sinceramente non credo che il mondo dello sport possa essere esente da questi tagli obbligati so che il sindaco Fassino quando si parla di tagli alla cultura si arrabbia molto però io vorrei chiedere all'assessore che ne sarà dei tagli allo sport sono già stati programmati si sa già a quanto bisognerà rinunciare si sa già in che modo verranno fatti vorrei una risposta vera il più possibile insomma non dica che non ci saranno tagli perché francamente non ci crediamo ma uno che fa l'amministratore pubblico ovviamente spera che non ci saranno tagli e lavora per quello però è chiaro che mi sembra che in questa epoca dove tutti usano un termine spettivo per nascondere una verità bisogna non solo tagliare alcuni costi eccetera non solo ma secondo me ripensare a come si possono fare delle cose perché Donaldo si è dimenticato di dire solo una cosa che l'abbiamo accompagnato penso di poter dire anche in maniera sostanziale e noi gli abbiamo dato una lire quindi molti progetti e poi penso che ci saranno altre testimonianze qua possono essere fatti ripensando la modalità con cui sono nati magari nati 15-20 anni fa avevano sicuramente un modo di essere pensati è chiaro che rivedere ripensare alcune modalità con cui fare sport è il nostro compito per i prossimi mesi non possiamo pensare che in un momento in cui globalmente il comune subirà dei tagli dove ormai le cifre le avete date tutti quindi non sto neanche a richiamarle non tocchino il mondo dello sport però possiamo fare una cosa possiamo evitare che queste revisioni di come fare alcuni servizi siano fatte in maniera lineare tecnica e pensare invece come farle insieme in maniera diciamo non indiscriminata e allora penso che alcune cose che andavano bene nel 1995 o negli anni 2000 2004 oggi dobbiamo insieme ripensare oggi come si riesce a fare sport a Torino sapendo che ci sono meno risorse è davvero indispensabile la modalità con cui lo facciamo oggi o possiamo pensare che era giusto al tempo ma oggi dobbiamo pensare anche a come ci si può inventare nuove modalità certo è un esercizio non facile certo è un esercizio che io dico importante perché prima lo pensiamo noi insieme in maniera partecipata come si può pensare di rifare lo sport con meno risorse e forse prima evitiamo che ci pensi qualcun altro dicendo in maniera lineare lo annullo del tutto è chiaro che il sindaco insieme a me candiando Torino a capitale europea dello sport ritiene che lo sport sia molto importante sia primario e l'ha scritto anche nel suo programma di mandato però è anche vero che quando i soldi non ci sono bisogna pensare a rivedere alcune modalità penso come abbiamo visto oggi sul suo quotidiano alcuni ripensamenti di modalità non di servizio rispetto alle visite mediche dei bambini che sono la mia prima priorità rispetto allo sport nelle scuole che sono la mia prima priorità e beh è ovvio che insieme a questo dobbiamo aggiungerci anche alla modalità con cui noi gestiamo gli impianti e quindi nei prossimi giorni proveremo a immaginare come nei prossimi 5, 6, 10 anni si possa pensare di gestire gli impianti magari insieme cercando di capire come farlo con meno risorse quindi sicuramente questo esercizio io non mi sottrarrò anche perché noi dobbiamo far capire che vogliamo farci parte e partecipe anche se risulta una cacofonia ma bisogna far sì che lo sport dia il suo contributo perché fino ad oggi si è parlato di tagli in altri settori ma evidentemente non è pensabile che noi ci possiamo essere sottratti da questo processo penso che però si possa e si debba ampliare lo spettro di raccolta delle risorse io ricordo non c'entra niente con la mia delega allo sport ma come tempo libero che abbiamo fatto San Giovanni a Torino la prima volta dopo 30 anni risparmiando 65 mila euro su un budget totale di 95 dell'anno scorso abbiamo selezionato uno sponsor privato abbiamo fatto le stesse cose anzi abbiamo aggiunto il maxischermo per vedere le partite agli europei non ci è costato niente abbiamo risparmiato tre quarti del budget questo però bisogna farlo insieme e quindi anche nel futuro quindi le contribuzioni non è detto che i progetti si debbano fare solamente se c'è il contributo pubblico anzi non è detto che gli impianti in concessione si possano gestire solamente se c'è il contributo pubblico ma probabilmente se ci mettiamo insieme e non diventa solo la città da in concessione noi prendiamo un impianto allora noi potremmo inventarci dei nuovi modelli magari ampliando quello che è la possibilità per i gestori di fare alcuna attività o magari inserendo quello che io dico visto che voglio tutelare quello che è lo sport di base lo sport sociale inserendo magari dei rendiconti che ci facciano vedere veramente chi fa lo sport sociale chi fa lo sport di base e chi probabilmente è nato in quel modo ha evoluto la sua attività verso una gestione economica del servizio questo vorrei farlo nei prossimi giorni nei prossimi mesi ma sicuramente insieme in modo tale da vedere anche e chiudo con un lancio di un messaggio che è già qualche mese che dico perché io ho sentito in questo anno tantissimi che mi hanno detto Assessore voglio venire da lei a proporle qualcosa ma ne ho sentiti ne ho visti pochissimi che sono venuti da me a propormi qualcosa di nuovo che non fosse faccio questo progetto solo se ci dà il contributo pubblico allora probabilmente se ci mettiamo insieme e vediamo che cosa il concessionario che cosa l'ente di promozione che cosa la federazione può fare e che cosa noi possiamo fare in una nuova era in un nuovo momento vengono fuori cose anche più belle quindi questo messaggio lo lancio le mie porte sono aperte però mi piacerebbe che qualcuno venisse dicendo noi ci mettiamo in prima linea vedo molti degli enti qua presenti e con loro stiamo facendo proprio questo percorso i contributi ci sono gli impianti ci sono viene la commissione si stanno mettendo a fare un grosso programma per far vedere che a Torino già lo sport c'è però prima bisogna mettersi in gioco tutti se ognuno in questo processo rimarcherà la propria differenza e la propria peculiarità per non mettersi in gioco io penso che perderà in partenza perché evidentemente su 898 impianti dal più piccolo al più grande che abbiamo a Torino evidentemente solamente se tutti ci mettiamo insieme facciamo qualcosa di buono se no il futuro è un futuro segnato da una spending review tecnica e non una spending review ragionata sui valori dello sport grazie perdone di insistenza ma quando si parla di teatri si è detto i teatri devono vivere con lo sbigliettamento perché i teatri devono vivere con i biglietti perché il pubblico non ha più soldi da investire negli spettacoli le società sportive le attività sportive di base lo sbigliettamento non ce l'hanno quindi c'è un modo diverso di autofinanziarsi che non sia quello di far pagare i praticanti quindi di chiedere ai genitori di pagare per far fare sport ai ragazzi di pagare più di quanto non paghino adesso il che alla fine vuol dire sostanzialmente fare poi una distinzione di classe chi ha i soldi potrà mandare i figli a fare sport e chi non ce li ha sarà costretto a rinunciare non c'è questo rischio in fondo quando si parla di nuove forme di cogestione degli impianti però alla fine i soldi da qualche parte devono arrivare se non arrivano dal pubblico devono arrivare dal privato difficile che ci siano sponsor privati disposti a sostenere l'attività di base l'attività dei ragazzini quindi alla fin fine come accade spesso poi è il genitore la famiglia che deve tirare fuori i soldi questo rischio c'è se ne rende conto spero sì ovviamente è un rischio che noi dobbiamo gestire insieme sapendo due cose uno che ci sono che ci sono una grande disparità all'interno dei moltissimi impianti di Torino perché ci sono alcuni impianti che sono gestiti da persone che si inventano di tutto per far quadrare i conti e ci sono degli impianti che invece attendono solamente che qualcun altro gli risolva il problema allora la prima cosa che dico è probabilmente tutti ci dobbiamo allineare su il livello di inventarci qualcosa per poter far quadrare i conti in secondo luogo mi sento di poter dire che chi è attento alla gestione sociale allo sport con una gestione veramente sociale dello sport visto che portando questo nuovo regolamento nei prossimi giorni introdurrò un rendiconto di gestione nessuno dovrà avere nessun problema se ha l'obiettivo lì perché dal rendiconto di gestione si vedrà chi fa la gestione sociale dello sport questo è lo strumento che introdurrò come novità politica è chiaro che chi invece partendo dalla gestione sociale dello sport ha evoluto la sua gestione verso una gestione economica allora io mi permetto di dire che probabilmente riesce in una misura poi andremo a vedere insieme quale ad autofinanziarsi anche senza completamente il contributo pubblico io questo penso di poterlo dire perché basta andare in giro negli impianti sportivi e le differenze sono evidenti allora io posso dire una cosa che la volontà politica dell'amministrazione è quella di tutelare lo sport con una valenza sociale quindi quello che lei citava ma anche quella di dire a quelli che hanno una gestione economica che essendo cambiato il tempo o loro compartecipano o non è più possibile fare una gestione prettamente economica del servizio è un cambiamento ma probabilmente tutti ci dobbiamo rendere conto che il mondo è cambiato chi se ne rende conto e che ha quella finalità riesce a entrare insieme in un percorso dove definiremo insieme le modalità per fare questo chi non se ne rende conto ed è indirizzato a una gestione economica probabilmente gestire un impianto a Torino a Milano a Genova a Bologna in un mercato globale è la stessa cosa e quindi probabilmente in altre città con altri indirizzi si può pensare di fare una gestione economica sulle spalle dello sport vorrei restare sul tema della crisi del denaro che manca per coinvolgere Chiaffredo Gallo abbiamo visto recentemente molte società sportive sono dilettantistiche sono in difficoltà alcune hanno rinunciato ai campionati ci sono state altre si sono fuse in modo da poter resistere com'è lo stato di salute del calcio dilettantistico in Piemonte in questo momento quando i soldi non ci sono più per nessuno grazie buongiorno a tutti grazie a Stefano Gallo che non è mio cugino e al Comune di Torino per l'invito grazie anche da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio e dal Comitato Regionale che ha sede in questa città e come sapete e tutto il mondo dilettantistico vuole augurare a Torino di poter essere la capitale europea nel 2015 questo obiettivo che se centriamo come tutti ci auguriamo sarà di certo un motivo di grande orgoglio da parte di tutto lo sport cittadino in particolare per tutto il territorio noi dobbiamo dare atto poi arriverò alla risposta del direttore dobbiamo dare atto agli amministratori di Torino che in questi anni hanno saputo dotare la città di ottimi impianti funzionali e moderni e le olimpiadi del 2006 hanno di certo aiutato e anche se c'è ancora molto da fare dobbiamo certificare che la situazione di Torino città è ottima se paragonato a altre realtà cittadine e al nostro territorio però a questo proposito so che in questo periodo lo dicevamo prima il Comune di Torino sta lavorando con le nostre società per i rinnovi delle concessioni sia dei campi che degli impianti sportivi soprattutto quelli con i terreni sintetici dove Torino è all'avanguardia in quanto ha moltissimi impianti Torino è stata tra le prime a dotarsi di impianti di terreno artificiale però adesso molti campi necessitano di una manutenzione straordinaria importante è vero che la situazione economica è molto critica per gli enti pubblici ma l'amministrazione comunale deve anche considerare che nell'affidare le nostre società alla gestione degli impianti oltre a garantire una fruibilità ai ragazzi e agli sportivi evita una grossa serie di costi derivanti dalla manutenzione ordinaria e dalla sorveglianza 24 ore su 24 non dimenticate poi che non ci sono più gli oratori oppure non ce ne sono di meno rispetto a prima e quindi le società svolgono un ruolo fondamentale sul piano sociale noi ci auguriamo comunque che al più presto si trovano le giuste soluzioni e il comitato regionale spera di poter dare il proprio contributo alla soluzione di questo problema approfitterei di questa platea però per dire qualcosa di positivo a favore del nostro calcio che troppe volte è stato demonizzato e criticato per fatti di violenza di corruzione e di stipendi immorali siamo consapevoli tutti che il calcio muove capitali e interessi enormi però dobbiamo fare un doveroso distinguo tra il calcio professionistico e il calcio direttantistico è il nostro calcio l'unica cosa uguale tra il calcio professionistico e i direttanti sono gli aspetti tecnici e le regole ma le finalità e gli scopi sono totalmente diversi i professionisti fanno calcio soprattutto per interesse e per fare profitto per fare business mentre noi direttanti lo facciamo per passione e nella maggior parte dei casi per dare un servizio sociale anche al territorio è vero che anche nei direttanti ci sono interessi personali ma sono pochi si raffrontati al movimento che attiviamo noi direttanti generiamo movimenti di denaro e di lavoro legati soprattutto alle attività collegate al nostro mondo relativamente per esempio ai materiali sportivi voi pensate cosa consumano le società sportive in tute borse scarpe cosa spendiamo nella ristorazione i ragazzi dopo l'allenamento mangiano il panino vanno in pizzeria vanno al ristorante in trasferta noi contribuiamo moltissimo allo sviluppo economico del territorio per dare qualche numero che vi farà capire di più l'ampiezza del nostro calcio in Italia ci sono 15.000 società direttantistiche e ci sono 125 società professionistiche 15.000 125 abbiamo in Italia 1.330.000 tesserati contro i 3.000 giocatori professionisti abbiamo 70.000 squadre dilettanti contro le 470 squadre professionistiche ma volevo darvi un numero significativo in Piemonte e in Valle d'Aosta abbiamo 812 società e siamo all'ottavo posto in Italia per dire come diceva il direttore 20 anni fa 30 anni fa eravamo al terzo posto in Italia oggi siamo all'ottavo posto in Italia abbiamo 77.000 tesserati al settimo posto in Italia ma soprattutto abbiamo un parametro che ci deve far pensare in Piemonte un abitante ogni 59 persone è tesserato per la Federazione Calcio significa che un condominio di 120 persone due sono tesserati per la Federazione ma al di là di questi numeri noi abbiamo un movimento enorme e il nostro calcio dovrebbe essere visto soprattutto in modo positivo per come per cosa muove e per cosa genera invece molte volte viene strumentalizzato forse anche per colpa di noi dirigenti e per la nostra incapacità di saper difendere i nostri veri valori sportivi per rispondere per rispondere alla domanda che mi faceva il direttore noi ci stiamo veramente non dico impegnando ma andando a cercare tutte le possibilità che ci sono per cercare di far sopravvivere le nostre società noi noi abbiamo a fine mese a fine di ottobre avremo rinnovo delle cariche federali e nel nostro programma c'è veramente un programma di vicinanza e di assistenza alle società sportive nel nostro caso le società calcistiche perché mai in questo momento hanno bisogno dell'assistenza delle istituzioni per poter sopravvivere noi penso che se ce la faremo nel nostro programma e soprattutto se Torino sarà prescelta per essere capitale europea dello sport nel 2015 penso che contribuiremo all'evento in maniera importante magari coinvolgendo anche la federazione e la lega nazionale direttanti che sono molto molto sensibili a questi tipi di eventi quindi io direi facciamo tutti il tifo per Torino e sono certo che nel 2015 saremo protagonisti tutti in Europa grazie grazie mi scuso con Patrizia Alfano ma vorrei coinvolgere prima Giuseppe Antonucci nel dibattito vorrei farlo perché è tempo di Paralimpiadi quindi sono momenti in cui si parla di Oscar Pistorius di Alex Zanardi si parla di Cecilia Camellini vorrei sapere da lui che cosa c'è oltre che cosa c'è dietro questi personaggi che ogni quattro anni tornano sui giornali quando vincono medaglie quando compaiono in televisione ma che poi ancora più degli atleti normodotati che fanno sport di non primissimo rilievo vengono quasi dimenticati per altri quattro anni poi tornano alla ribalta in occasione dei nuovi giochi quanti sono a Torino le persone che fanno sport paralimpico quali difficoltà hanno e se in qualche modo c'è preoccupazione anche qui per motivi economici perché credo che la mancanza di denaro sia un problema per tutti per chiunque faccia sport senza eccezione neanche per voi grazie buonasera grazie per l'invito e vi porto anche i saluti di chi adesso è a Londra a lottare con tanto entusiasmo per portare a casa delle medaglie entusiasmo è la parola che voglio mettere in evidenza proprio perché credo che il motore principale che spinge tutti gli atleti in generale ma forse un po' di più gli atleti con alcune disabilità a insistere affinché si possa raggiungere il risultato l'entusiasmo credo che sia l'elemento fondamentale che spinge tutti gli atleti e a proposito di questo vorrei mettere in evidenza due aspetti importanti uno che si è verificato proprio oggi quando Cecilia ha conquistato la sua medaglia la seconda medaglia d'oro ieri nei cento e oggi nei cinquanta e un altro aspetto che mi è piaciuto molto è l'unione e l'entusiasmo che legava la squadra di Mauro mentre guardavo le partite quando dopo un time out lui e la squadra decideva di far entrare in campo un atleta che credo fosse alla sua terza partecipazione olimpica o alla quarta che portava senza nulla togliere agli altri però portava in campo secondo me un valore aggiunto proprio dato dall'entusiasmo questo fa fronte in parte anche alle difficoltà economiche perché i presidenti delle associazioni con atleti disabili e tra queste sport di più che è quella che io rappresento che conta circa 80 atleti fanno moltissima fatica l'assessore ovviamente è coinvolto molto spesso in questi argomenti perché durante le varie stagioni noi pratichiamo sia sport estivi che sport invernali ovviamente e durante lo svolgimento delle stagioni ci troviamo anche grazie alla elevata efficienza di Torino ad organizzare delle manifestazioni importanti per esempio a maggio si è svolta a Torino su richiesta specifica del Comitato Paralimpico Internazionale un campionato mondiale di atletica leggera che era l'ultimo appuntamento utile per poter conquistare i tempi per partecipare alle Paralimpiadi che adesso sono in corsa e alcuni atleti che hanno abbassato il record mondiale ieri erano appunto allo stadio Nebbiolo al Parco Ruffini due mesi fa tre mesi fa per questo evento internazionale che ha richiesto a Torino e a Sport di Più e a tutto il movimento paralimpico un impegno eccezionalmente importante e questa è soltanto una delle manifestazioni che possiamo citare che si ripetono nel corso degli anni alcune cose che io vorrei mettere in evidenza a proposito della candidatura di Torino a capitale dello sport è proprio data dalle numerose manifestazioni che da circa una dozzina d'anni e cioè da quando più o meno Torino ha vinto la candidatura per l'organizzazione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi si sono ripetute nel corso del tempo abbiamo cominciato mi ricordo nel 2003 con due eventi importantissimi e molto entusiasmanti a livello nazionale e non solo perché mi ricordo come fosse ieri che in piazza Castello migliaia anzi decine di migliaia di persone si sono recate per vedere alcune dimostrazioni di sport paralimpico e nello stesso periodo si è svolto per la prima volta a Torino un campionato di tennis internazionale che si svolge allo sporting al circolo della stampa che appunto si chiama Trofeo della Mole che vede coinvolti circa 90 atleti che arrivano tennisti in carrozzina che arrivano da tutto il mondo e che praticano il tennis a livelli elevatissimi avrete modo di vedere poi durante queste Paralimpiadi alcuni di loro perché è finito la settimana scorsa la decima edizione di questo torneo e appunto ancora una volta si è messo in evidenza l'entusiasmo che sia gli atleti che gli organizzatori che i volontari che a Torino sono di primissima scelta mettono a disposizione che sono la differenza che molto spesso compensa la mancanza di soldi perché effettivamente adesso è una cosa che si presenta sempre più spesso e pertanto il fatto come dicevate prima sia il direttore che l'assessore sulla possibilità che io spero non si presenti di non vincere la candidatura offre comunque due vantaggi il fatto speriamo di no di non diventare capitale europea comunque ha due risvolti positivi positivi primo è dato dall'impegno che tutti noi metteremo affinché comunque chi deve decidere sulla base degli elementi dica di sì e il secondo è il fatto che in ogni caso porterà delle risorse sia nel caso in cui dovessimo vincere che no comunque porterà delle risorse che sono l'elemento importante per poterci promuovere come diceva l'assessore prima per poterci promuovere affinché alcune cose che nel corso della mia breve vita sportiva io ho notato ma soprattutto prima di diventare sportivo ho notato con dispiacere affinché si possano eliminare le cose che io vorrei non vedere più proprio grazie alla continua crescita che c'è grazie all'organizzazione di queste manifestazioni è quella di vedere l'ora di educazione fisica nelle scuole come ora di ripiego ora di relax ora per dare la possibilità ai ragazzini di andare fuori dove ci sono le palestre di andare fuori a oziare a fumare o a fare tutt'altro che attività fisica questa è una cosa che nel corso del tempo soprattutto io sono arrivato a Torino da Barletta quando avevo 17 anni e a Barletta andavamo a fare educazione fisica nelle piazzette accanto alla scuola adesso sono passati un po' di anni e questa situazione è cresciuta molto pertanto credo che lo sport non abbia una connotazione politica credo che siano stati fatti molti passi avanti affinché non ci siano neanche connotazioni geografiche proprio perché c'è stata una crescita continua su tutto il territorio anche se le differenze sono ancora notevoli grazie ad un continuo impegno di tutte le persone che spendono il loro entusiasmo al di là della disponibilità economica che hanno a disposizione a Torino ci sono moltissime associazioni sportive che fanno promozione di sport disabili a tutti i livelli sia per portatori di handicap fisici come nel mio caso che per portatori di handicap psicoattitudinali che sono ancora più difficili da trattare ovviamente anche per i non vedenti e in tutte queste categorie ci sono degli atleti veramente eccellenti che adesso appunto si trovano a Londra a partecipare alle Olimpiadi tutto questo è possibile grazie all'impegno che si spende ogni giorno per poter come devo dire promuovere queste attività perché il il fatto come devo dire il fatto di abituarsi alla fatica come diceva Mauro prima è una connotazione sempre meno presente io lavoro nel mondo della scuola quindi mi accorgo di alcune caratteristiche generalizzate e molto diffuse purtroppo all'interno delle classi di mancanza di abitudine alla fatica che secondo me deve essere subito messo in evidenza il fatto che per ottenere un risultato per raggiungere uno scopo obbligatoriamente ci si deve impegnare e si deve sopportare la fatica che serve per arrivare più avanti possibile poi ovviamente incidono anche il talento e un sacco di altre cose però proprio per questi motivi io ritengo che sia importantissimo insistere affinché ci sia tutto l'entusiasmo che serve per far andare avanti questa candidatura per Torino per far andare avanti tutte le cose che servono per continuare sempre a mettere in evidenza e a promuovere queste attività sportive sia per i disabili ovviamente che per i normodotati con maggiore entusiasmo e proprio scusate non voglio sembrare presuntuoso ma faccio una piccola citazione di Luigi Einaudi a proposito dell'entusiasmo che ha detto che l'entusiasmo è la scintilla del vostro sguardo lo slancio della vostra andatura la forza della vostra mano l'irresistibile esplosione della vostra volontà e io credo moltissimo nella forza dell'entusiasmo che ci spinge tutti ad ottenere dei risultati migliori ma soprattutto a vivere una vita con lealtà e con spirito migliore tutti i giorni e grazie grazie dunque andiamo incontro a due prospettive da un lato la possibilità di diventare capitale europea dello sport dall'altro a una serie di stagioni con meno denaro pubblico a disposizione come si pone un ente di promozione sportiva come la WISP di fronte a questo futuro possibile ma allora innanzitutto per l'UISP ma poi per molti enti di promozione che sono qua stasera con i quali si lavora insieme in questa città la notizia della candidatura è stata una bella notizia per come è stata gestita dal nostro assessore allo sport perché parlare di Torino candidata capitale europeo dello sport ha significato rieprire tavoli di lavoro ripensare all'organizzazione dello sport in questa città riprendere un lavoro che da troppo tempo era stato interrotto quindi anche se non si vince noi abbiamo ricominciato a lavorare con la città e siamo disponibili a dare alla città risorse impegno per far sì che comunque questa città rimanga una grande città di sport perché questo è e poi spiego anche il perché mi fermo un attimo prima di rispondere alla seconda domanda su questa questione dell'associazionismo sportivo che è stato citato da molti il mondo dell'associazionismo sportivo in Italia è molto grande se sono due in un condominio che fanno calcio sono almeno su 120 70 60 che fanno sport con noi e l'associazionismo sportivo non ha neanche il problema dell'abbandono precoce perché non perseguendo il risultato ma perseguendo la promozione e la cultura dello sport come stile di vita che accompagna per tutta la vita noi bambini li prendiamo da piccolissimi e rimangono con noi fino a che hanno 90 anni molti ci abbandonano a un certo punto per provare a far agonismo ma poi tornano tant'è che noi abbiamo i campionati master amatoriali questo è il mondo dell'associazionismo sportivo in Italia è un mondo grandissimo che non si vede e non si legge sui giornali perché non fa notizia e non fa spettacolo però è il mondo che in qualche modo mi riallaccia quando si parlava della Finlandia ha supplito ad una carenza dello stato italiano che noi ci portiamo dietro dal dopoguerra che a differenza di altri stati europei non ha mai fatto politiche pubbliche per lo sport dei cittadini della gente allora in Italia non ci sono ancora ore di sport come in altri paesi europei in Italia non c'è la cultura dello sport come cultura di vita indispensabile per stare bene per aggregarsi per mille cose allora gli enti in Italia non c'è mai stato un ministero dello sport adesso c'è ma non ha soldi quindi è come se non ci fosse della serie che può far poco e quindi il ruolo degli enti dell'associazionismo è stato un po' di supplenza e poi siccome questo ruolo di promozione dello sport per i cittadini è stato delegato dallo stato agli enti locali noi siamo stati quelli che più di tutti hanno lavorato con gli enti locali e vengo un po' ai problemi legati alla crisi in particolare a quello degli impianti Torino negli anni 80 è stata e diventata capitale dello sport perché è stata la prima città in Italia poi a seguire ci sono state alcune città dell'Emilia Romagna che hanno fatto questo a pensare ad una campagna di sport per i propri cittadini perché guardate bene c'è un po' l'abitudine a dire che la gente non fa sport bisogna convincerla a fare sport se guardano le olimpiadi poi fanno sport non è così perché noi ci troviamo a mandare via un sacco di gente a non poterla accogliere perché non abbiamo spazi impianti sufficienti a rispondere alla domanda molte famiglie per molte famiglie in questo momento lo sport rischia di diventare un lusso non hanno soldi perché in Italia lo sport i cittadini se lo pagano a Torino per fortuna meno che in altre città perché proprio negli anni 80 fu inventata questa campagna che portò portò la città insieme agli enti di promozione sportiva ad aprire tutte le scuole elementari al pomeriggio per dare a tutti i cittadini la possibilità di fare sport sotto casa in tempi conciliabili con il lavoro con gli impegni a tariffe popolari questa cosa che è stata tipica di Torino che ho visto anche l'apertura di una piscina in ogni circoscrizione e poi la gestione sociale degli impianti aveva fatto allora diventare Torino capitale dello sport e molti di noi hanno girato l'Italia raccontando questa esperienza e la gestione sociale degli impianti è arrivata ad un certo punto di questa esperienza perché da una parte il comune non era più in grado di sostenere i costi della gestione diretta e perché dall'altra infatti si chiamava gestione sociale e non esternalizzazione come si chiama adesso dall'altra gli enti l'associazionismo erano disponibili a lavorare per gestire gli impianti concordando direttamente il programma delle attività con la città e con i cittadini quindi un programma che si costruiva sulla domanda che aveva degli obiettivi culturali educativi di formazione e di integrazione perché io credo che questo patrimonio di impianti a gestione sociale hanno fatto risparmiare e continueranno se ci saranno ancora a far risparmiare tantissimi soldi in sanità perché si si fa un lavoro che è assolutamente di prevenzione e di cura di moltissimi soldi perché in questi impianti noi abbiamo realizzato grandi progetti di integrazione per cui moltissimi cittadini stranieri praticano questi impianti molti di questi impianti sono in periferia quindi moltissimi progetti di valorizzazione delle periferie e di contrasto al disagio soprattutto giovanile di contrasto alla solitudine per la terza età di tutto questi impianti hanno rappresentato e rappresentano un patrimonio sarebbe bello fare un bilancio sociale ne abbiamo parlato con l'assessore lui è ben disponibile perché rappresentano un patrimonio importantissimo per la città e gli enti che hanno preso in gestione questi impianti in questi anni hanno accettato di accollarsi la manutenzione straordinaria e ordinaria investendo risorse loro che insomma in molti casi non sono ancora state recuperate perché molti di noi io vedo qua molti gestori di impianti sono ancora come dire nella fase di recupero perché comunque continuiamo a mantenere le tariffe popolari continuiamo a praticare delle gratuità perché questo sta nella nostra missione e quindi noi abbiamo investito risorse economiche per impianti che sono di proprietà della città e che le cui attività vengono restituite cioè noi restituiamo ai cittadini una risorsa della città attraverso investimenti economici nostri e attraverso un grandissimo lavoro di volontariato allora per concludere mi preoccupa un po' ci preoccupa perché ne abbiamo parlato il fatto che in Italia si parli molto di libro bianco dello sport di valori ne parlano tutti però poi nei fatti nei fatti solo alcuni no realizzano concretamente delle azioni per far sì che la teoria del libro bianco possa avere poi un seguito cioè tutti parliamo di quanto è importante lo sport ma quelli che veramente fanno qualcosa per questo sport sono pochi da una parte dall'altra ci sono alcuni politici e mi dispiace che considerano ancora l'associazionismo sportivo come un'attività sportiva quasi privata non si rendono conto che è un'attività che sostituisce le politiche pubbliche in molti casi che è rivolta ai cittadini e quindi che fa un servizio importante per l'ente locale esistono poi amministratori purtroppo che ritengono di poter recuperare risorse tagliando sullo sport no perché così come l'ora di educazione fisica è un'ora di svago oppure insomma anche per alcuni amministratori lo sport è la prima cosa su cui è possibile tagliare più facile no invece lo sport effettivamente tagliare sullo sport in questo momento significherebbe spendere poi di più in altri in altri settori dove lo sport invece riesce ad ottenere dei risultati quindi ritengo che in questo momento sia fondamentale lavorare con l'ente locale riunire il mondo sportivo il mondo sportivo purtroppo proprio per questa situazione tipicamente italiana spesso è diviso in concorrenza e questo credo sia un altro dei nostri limiti perché farci la guerra perché per anni siamo stati come dire soggetti un po' usati no anche nella politica e quindi abbiamo un po' vissuto tutti alla ricerca del contributo che forse ci veniva dato non tanto per per il valore ma veniva riconosciuto a chi si faceva più sentire no quindi una politica seria invece significa mettersi di nuovo tutti attorno a un tavolo ragionare tutti insieme come grande risorsa per la città capire tutti insieme come non ridurre assolutamente i finanziamenti sullo sport e come invece utilizzarli nel modo migliore perché questo mondo può contribuire notevolmente a rilanciare lo sport ed aiutare anche gli enti locali a condizione che le indienti locali prendano atto che ci sono spese meno importanti delle nostre che potrebbero essere tagliate grazie grazie siamo un po' tornati all'inizio insomma spendere per lo sport oggi significa spendere meno per la sanità domani insomma questo è il tema che aveva accennato Berruto e che è tornato nell'ultimo intervento prima di chiudere vorrei chiedere se c'è qualcuno del pubblico che vuole fare domande che vuole intervenire pare di no quindi possiamo possiamo chiudere qua c'è una una cosa che Donaldo voleva dare all'assessore prima di sì l'assessore non soltanto è stata la prima spinta a questa iniziativa a scuola di sport ma è stato anche uno degli diciamo così allievi più presenti per cui a tutti i nostri allievi abbiamo dato un attestato di partecipazione e vorrei consegnare all'assessore anche a lui perché veramente lo merita pregando di rimettere nel suo ufficio non in qualche angolo questo attestato grazie comunque chiudo dicendo grazie a tutti che siete venuti grazie a quelli che vorranno fare il percorso insieme a noi e poi non è che togliamo sempre qualcosa che uno dei punti che vorrei e penso di poter dire che riusciremo a introdurre e per esempio anche un cambiamento positivo perché nella riforma che sto studiando vorrò introdurre la possibilità a tutti i gestori di aprire i barra al pubblico esterno questo è un modo anche di dare un'apertura ai gestori per una nuova fonte di autosostentamento è una richiesta che mi è venuta da tantissimi di voi quindi da un lato cerchiamo di rivedere le cose insieme dall'altra cerchiamo di portare a casa qualcosa che ai gestori permetta di comprare quella perdita ecco la risposta alla domanda che faceva il direttore facciamolo come il 21 febbraio tutti insieme perché solo così ne usciamo grazie a tutti ringrazio anche io tutti buonasera e buona festa grazie a tutti i nostri spettatori